Primo giorno di scuola per gli alunni teramani, ma anche per molti dirigenti scolastici in provincia di Teramo, infatti, si è recentemente proceduto ad una rotazione dei presidi che dai licei sono approdati agli istituti tecnico-professionali o viceversa. Gli studenti, ovunque intanto, sono alunni, nel senso anche qui etimologico del termine, cioè sono persone da prendere e crescere con cura e con premura. Lo studente del liceo ha un profilo spesso diverso, ma è anche vero che bisogna liberare il terreno da pregiudizi, preconcetti, che non fanno bene alle relazioni umane. Quando io ho davanti un ragazzo, non penso se sia un ragazzo del liceo, un ragazzo del professionale, un ragazzo del tecnico, ma ho la persona nel senso più bello del termine. Chi formate? Noi formiamo tecnici altamente specializzati e periti meccanici o donto-tecnici. E io ho scoperto in questi giorni propedeutici al mio insediamento un nuovo mondo, vale a dire una filiera formativa importante tra la scuola e le aziende. Il rapporto scuola-lavoro diventa dunque cruciale per l'occupazione futura dei giovani abruzzesi. Su questa linea si muove la regione Abruzzo. Il collegamento tra scuole tecniche e professionali e mondo del lavoro potrebbe essere una svolta per l'occupazione dei giovani? Ha colto bene la questione ed è di fondamentale importanza perché bisogna capire come i ragazzi possono essere inseriti nel mondo del lavoro. Io girando le aziende spesso gli immeditori cercano maestranze ma non si trovano, quindi bisogna qualificare determinati profili e questo lo dobbiamo fare facendo degli orientamenti nelle scuole, che ci sarà da partire da quest'anno, pure se si facevano negli scorsi anni, proprio questi anni lo vogliamo proprio attenzionare questo discorso perché tramite il CPI che stiamo rafforzando e potenziando vogliamo incrociare domande e offerte di lavoro e logica che ne andremo nelle scuole a capire quali sono gli orientamenti per poi dare una qualifica specifica a questi ragazzi e facilitare l'inclusione nel mondo lavorativo. Non riscontriamo grossa criticità, c'è molta contentezza da parte dei ragazzi perché dopo due anni non sono obbligati a indossare la mascherina, non c'è il distanziamento, questa è una cosa positiva.